Salve a tutti, sono Federica Zianni, sono un'artista e lavoro prevalentemente con la scultura. Sono molto felice di essere stata selezionata per Arts in Rome Prize e di esporre a Spazio Cima Roma e a Un'Arte Gallery a Firenze. L'opera che ho candidato fa parte della mia ultima produzione sulla natura umana e si tratta di una scultura a parete. Il titolo è Elastic Reticulum ed è stata prodotta nel gennaio 2020 con inserti di lacce mostatici. I materiali che utilizzo nelle mie produzioni artistiche sono strettamente connessi alle teorie dietro al lavoro. In questo caso ho iniziato a lavorare sulla natura umana e di conseguenza utilizzo sia lavorazioni molto complesse come le fusioni a cera persa sia l'utilizzo di materiali artificiali come le camere d'aria o i lacce mostatici. Questo perché i materiali artificiali lo sono come lo è la natura umana che di fatto non è niente di naturale. La conoscenza umana non si basa su delle conoscenze innate ma sulla continua acquisizione di cultura durante tutta la vita dell'essere umano. Se volete maggiori informazioni sulle mie produzioni artistiche potete visitare il mio sito www.federicazianni.com A presto!